Il giorno in cui annunciamo ufficialmente Peppino Conte, Peppino Conte! Sarà il 16 dicembre alle 14.30, lo ho annunciato anche sui social, quindi segnatevi la data. Allora caro Alessandro, grazie mille per essere tornato, periodo natalizio, nonostante i tuoi grandi impegni in giro per l'Italia, stai facendo parecchi tour sulla testa, come stanno andando? Abbastanza bene, non è facile, ci vuole molto tempo per me in questa fase per riconquistare soprattutto un po' di fiducia, ma non nello specifico su di me, che sono un libero cittadino che fa delle battaglie politiche, ma in generale sulla politica, perché obiettivamente la disaffezione è molto molto alta, sia perché è una forza comunque che è riuscita in passato, piaccia o non piaccia, a guadagnare un sacco di spazi, appunto tra le fila dei disillusi, evidentemente non riesce più a farlo come prima, questo è un dato di fatto, mi riferisco al Movimento 5 Stelle, altrimenti non starebbe a quel che valgono i sondaggi a questa altezza, ma in generale io credo che sia durante il governo Draghi, sia proprio la politica essersi autodelegittimata, fondamentalmente con una mancanza di coerenza totale da parte di tutti, io spesso me la prendo con il Movimento 5 Stelle, perché me la prendo con il Movimento 5 Stelle? Perché sulla mia persona, come dirò... Perché ci tenevi, insomma. E' certo, è certo Ivan, perché ci tenevo da morire, e quindi me la prendo con il Movimento 5 Stelle e critico dei cambi di linea repentini, per me assolutamente folli, però se ci facciamo caso è una cosa che riguarda tutti quanti, ma vi dimenticate quando Saldini diceva mai Correnzi, ci sta governando Correnzi, e Correnzi si sta mettendo d'accordo per eleggere il Presidente della Repubblica, vi dimenticate Orlando, che è un attuale Ministro della Repubblica, Ministro del Lavoro a proposito dei licenziamenti, che intervistato dalla Gruber pochi giorni prima che giurasse come Ministro della Repubblica il governo Draghi, dichiarò con Saldini nemmeno se viene Superman Presidente del Consiglio, ve lo ricordate? Cioè questa gente che faccia ha oltre che un deretano gigantesco. No, questa cosa l'abbiamo detta proprio di recente, sul fatto che quando si parla di cambi di fronte, di incoerenza, insomma nessuno è senza peccato come si suol dire, tutti hanno sparato almeno una volta una grande cavolata. Mamma mia! Ma sai, anche a me è capitato di dire bloccheremo il TAP e di non esserci riusciti. Uno, ho chiesto scusa, pur non essendo io stato il protagonista poi di quella decisione, non stavo neanche al governo, non stavo neanche in Parlamento, però lo dissi in campagna dottorale, quindi per prima cosa chiedi scusa. Poi spieghi le ragioni per le quali non ce l'hai fatta, però non è che senza vergogna cambi linea da un giorno all'altro in maniera tra l'altro così sfacciata. Cioè Orlando è lo stesso che dichiarava nella festa del fatto del 2016 che si vergognava di aver votato il pareggio bilancio in Costituzione perché riteneva che sia nel metodo che nel merito fosse antidemocratico in un certo senso e si vergognava per aver votato una riforma costituzionale senza alcun dibattito pubblico. Una riforma, come sapete bene, quel pareggio bilancio in Costituzione, e quantomeno così repentino anticipato fu decisione presa da Tresce e Mario Draghi con quella famosa letterina che arrivò al governo Berlusconi e che poi venne realizzata dal governo Monti. E adesso con chi governa Orlando, dopo essersi vergognato di quel voto, con Draghi e con Salvini. Io ricordo anche Grillo dire, prima del voto, che per me non fu un voto regolare, sì, però, come dire, gli attivisti del Movimento 5 Stelle sono stati raggirati in un certo senso perché ricorderete che si disse che Salvini non ci dovrà essere, che non ci capisce un cazzo di ambiente, Salvini ci sta, oppure Draghi dovrà parlare presto, prima appunto di fare il governo, Draghi non parlò, tra l'altro dal suo punto di vista giustamente, e poi si disse anche che ci deve essere un ministero della supertransizione ecologica che unisca di fatto il Ministero per lo Sviluppo Economico e il Ministero dell'Ambiente. Cioè, hanno cambiato il nome al Ministero dell'Ambiente, dando qualche leggero potere in più, appunto, transizione ecologica, ma di fatto, come dire, tutta una serie di dossier importanti. Pensate all'ILVA, la partita ILVA chi la gestisce? Giorgetti o Cingolani? Giorgetti o Giorgetti? Ergo non c'è neppure questo ministero della supertransizione. Cioè, io noto che tutto questo, alla lunga, provoca disaffezione. Al di là delle idee politiche che ognuno ha, che esprime, che oggi sono anche abbastanza, come dire, azzerate, appunto, durante il governo Draghi, non è che c'è una battaglia politica tra chi crede al rafforzamento dello Stato, chi crede, invece, al rafforzamento del privato, da chi ritiene che si debba fare più debito pubblico, a chi ritiene, invece, che si debba diminuire immediatamente il debito pubblico. Queste sono idee legittime che si scontrano. Ma che scontro c'è oggi? Se addirittura Landini dice scioperiamo, e qua pare che sia uno scandalo fare uno sciopero, un paese che veramente si è del tutto, non la pubblica opinione, però la classe politica si è, come dire, prostrata, appunto, davanti all'altissimo. Più che altro, diciamo che si discute poco di, appunto, come dicevi tu, di tematiche economiche, lavoro, occupazione giovanile. Infatti, sì, le prime pagine sono dedicate tutte al Covid. Quando abbiamo intervistato Scanzi, anche lui ce l'ha detto. Noi, sul Fatto Quotidiano, parliamo del Green Pass, del Covid, perché tira di più, cioè ce l'ha proprio ammessa questa cosa. Il compito della politica non dovrebbe essere quello di parlare delle cose che tirano di più, cioè mica i politici sono influencer. Ormai i politici sono diventati opinionisti, commentano i Maneskin, commentano Sanremo, commentano il Medelliero Azzurro, ma non prendono mai posizioni politiche. Io mi onoro del fatto che, ripeto, condivisibili o meno, ho sempre preso posizioni politiche in maniera netta. Io mi scaglio contro le sanzioni alla Russia, mi scaglio contro le sanzioni all'Iran, sono filo palestinese, credo nella socializzazione delle imprese, credo nel fatto che si debba approvare l'eutanasia, credo nel fatto che si debba approvare la legalizzazione della cannabis. Ora tanto ci arriviamo a questi temi. Adesso faccio partire il timer di cui ti ho parlato, così almeno rispettiamo anche le tempistiche, non andiamo troppo lunghi. intanto buongiorno anche a Michele. Salute a tutti. Ben tornato. Ciao Michele. Allora, appunto, anche se è un argomento esautorato, velocemente sulla questione Green Pass, Super Green Pass, Alessandro, un tuo parere, considerando tutte le varie criticità, noi abbiamo sollevato molte criticità di questo Green Pass ad oggi, insomma, soprattutto sui controlli, risulta complicato, anche la narrazione dei giornali, che continuano a tener conto sempre e comunque spesso soltanto dei contagi, e poi in secondo piano le terapie intensive e tutto il resto, la vaccinazione sui bambini, quindi se in tre minuti mi dai un tuo parere su questa storia. Beh, sono questioni così tutte quante insieme, vediamo un po'. Io in generale credo, fondamentalmente, per il tipo di vita che faccio, è che concentrarsi esclusivamente su Innovax, sul tema Green Pass, come hai detto tu, i controlli sono spesso, i volentieri, ridicoli, e ne ho fattezza e contezza personale, perché prendo gli autobus, fondamentalmente, sia un modo proprio di, come dire, di dare anche delle responsabilità, dovrebbero essere quelle della politica, esclusivamente affidarle, come dire, prendersi soltanto con chi non si vaccina, che per me sbaglia, io a chi non si vaccina dico, avete i dubbi su Big Pharma? Legittimi, sul fatto che siano enormi, multinazionali, dediti al profitto, evidentemente, legittimo, il fatto stesso che non vendano, che vendano relativamente i vaccini in Africa, dimostra che vogliono, che cercano essenzialmente il profitto, sono multinazionali privati, ecco, però, guardatevi i dati rispetto ai ricoveri dei vaccinati, cioè, sono veramente bassi in maniera drastica, guardatevi i dati, se non vi piace il sistema liberal capitalista, di un paese che non c'entra nulla con il liberal capitalismo, come Cuba, che da quando ha vaccinato il 95-96% della popolazione, quasi non ha morti quotidiani, e comunque ha ridotto in maniera enorme il numero dei ricoveri e dei contagiati, ecco, io in virtù di questo suggerisco a tutti di farsi il vaccino, poi c'è da dire, ma anche è evidente che il governo ha le sue responsabilità, ha le sue responsabilità del ministro dell'istruzione, io ho figli piccoli che vanno a scuola, ma in generale ho tante persone, e guardate che le classi di pollaio esistono, non hanno fatto nulla per ridurre appunto il numero di persone all'interno delle classi, tra l'altro chi tagliando dei denari alla scuola pubblica, e cercando appunto di diminuire in un certo senso il numero degli insegnanti, e di conseguenza aumentare il numero di all'alunni fu la Gelmini, con l'ultima riforma che fece la ministra dell'istruzione, e tra l'altro ce la ritroviamo al governo del paese, cosa per me ignobile per diverse questioni, ergo i Novax comunque sono l'avversario perfetto per l'attuale governo Draghi, i perfetti, cioè se dovessero scegliersi un avversario mediatico, sai come si fa la narrazione, da un lato l'eroe, dall'altra parte il contreroe, l'anti-eroe, i Novax sono perfetti, ma il tema è che secondo me sono un grande capo spigatorio, che fa sì che non ci si concentri neppure sulle responsabilità del governo, talmente anche in tema dei trasporti, io ho preso recentemente l'autobus sostitutivo del 2, non so se conoscete la tratta Piazza Mancini, Piazzale Flaminio, cioè in certe ore era un macello, un macello, diciamo che i mezzi pubblici soprattutto nelle grandi città sono... A me nessuno mi ha controllato il Green Pass, c'era un, non mi ricordo quale virologo, perché oltretutto c'è anche un altro problema, che sono i virologi oggi in televisione, sono diventati star, molti si contraddicono l'uno dall'altro, dicono cose non sempre comprensibili, alcuni di loro veramente, non tutti, non voglio generalizzare, ma amano a tal punto la popolarità da essere sempre in televisione, non so, quando fanno ricerche scientifiche, per un po' ci ritroveremo all'isola dei famosi, o al grande fratello Vip, alcuni virologi. Ah, probabile. E questo è evidente che ha creato confusione. E vi faccio, Ivan, l'ultimo esempio. Sì, 20 secondi. Sì, io mi sono vaccinato i primi di giugno con Johnson & Johnson, tra l'altro domani ho la terza dose, sarebbe la mia seconda, perché Johnson ha una dose sola, con Pfizer. Cioè, due settimane dopo essermi vaccinato, la comunicazione, insomma, il mio vaccino, Johnson & Johnson, che mi era stato appena somministrato, è stato vietato alle persone sotto i 60 anni. Cioè, io ci sono rimasto male, come dire, da persona che si fida delle scelte governative, e ho pensato, mi sono fatto inoculare un vaccino che oggi non potrei più farlo, perché è vietato. Cioè, la comunicazione... Ti devo interrompere, Ale, che è finito il tempo. Dopo, se vuoi, mi finisci chiaramente di raccontare. Vai, vai, vai. Michele, tu sei d'accordo con questa visione? Insomma, anche tu ti sei espresso spesso e volentieri, soprattutto sul Green Pass, che attualmente, insomma, non ha molto senso di esistere, no? Ma, se mi chiedi se sono d'accordo con la visione del mondo che ho sentito, la risposta è che non l'ho capita. Ho l'impressione che sia una visione del mondo che suggerisce che bisogna andare a vivere in un posto intermedio fra Cuba e la Russia. In effetti, un posto intermedio fra Cuba e la Russia potremmo essere noi, dal punto di vista geografico, dal punto di vista sociopolitico, invece, non sono sicuro che lo raccomando. Quindi, non so bene cosa dire. Sullo specifico, se vuoi sapere la mia opinione, sullo specifico del Green Pass, l'ho data le sbariate volte. Io non ci vedo queste... Non lo so, negli argomenti di Battista ho sentito questa idea di fondo che mi piacerebbe vedere provata, per cui qualsiasi cosa faccia il governo, un'azienda come Pfizer o che ne so, è male. Dopodiché, invece, esistono delle forze buone residenti a Cuba. Io su quello, francamente, non riesco bene a commentare. Io ritengo che il Green Pass sia stato utile temporaneamente come strumento di incentivo e anche di informazione, l'ho detto mille volte. Nella fase in cui, presa in mano, una campagna di vaccinazione costruita dal Conte II, che andava abbastanza male, andava ridicolmente, a rilento, le primule, eccetera, c'era un ritardo. Quindi io vorrevo recuperarlo e andava, a mio avviso, bene incentivare. Ricordatevi che Draghi lì, chiaramente per scelta sua, credo sia stato uno delle poche volte in cui ha spinto chiaramente contro Speranza e gli altri partiti di governo, ha forzato quelle prime fasi di riaperture, chiamandole rischio calcolato e, se ricordate, quella che è da sempre l'opinione dominante in Italia, aveva al tempo previsto disastri, migliaia di morti, eccetera, che non sono venuti, è andata bene, il Green Pass è stato uno strumento di protezione. Adesso non mi sembra più tanto utile, crea tensioni sociali inutili, l'idea che i Novax sono una creazione, è uno strumento, mi sembra un po' così campata per ari. I Novax purtroppo esistono, come esistono i no euro, come esistono i no libertà di mercato, fanno parte di una sottocultura nazionale tragica, orrenda, della retratzezza. E sì, è della mancanza di dibattito esplicito sui numeri, sui fatti, invece che sui comizi. D'altra parte però ci sono, e siccome non li ritengo così gravi, non li ritengo così letali al vivere in comune, io se fossi Palazzo Chigi, insisterei per un'eliminazione progressiva, abbastanza rapida però, di queste restrizioni, anche per un'eliminazione dello stato di emergenza. Quello francamente ha cominciato a scocciare. Ma di nuovo, 30 secondi, non può essere, 30 secondi scusami, tutto questo non può essere, come dire, considerato in astratto, come se il mondo fosse iniziato, quando è andato a Chigi Mario? In marzo. Nove mesi fa. Sì, sì, sì. L'Italia è quel paese lì, a quel Parlamento. Io adesso non so quali siano le posizioni di Battista rispetto ai suoi stessi compagni di parto di movimento. Insomma, il gruppo parlamentare 5 Stelle l'abbiamo visto, i loro provvedimenti li abbiamo visti, per carità la Lega, i Piddini. Cioè, il Parlamento è quello, il paese è quello, c'è stato un signor Conte che ha governato orrendamente per anni, prima di lui, non è che abbiano governato molto meglio, leggermente, diciamo, meno peggio e quindi l'operato di Draghi va letto in quel contesto. Io sono diventato molto critico della... Poi chiudi, Michele che ha finito il tempo. Non come persona, ma di quello che stanno facendo. Però bisogna parlare sui, insomma, dobbiamo parlare sui provvedimenti concreti, ecco. Ok, grazie. Parliamo di allora qualcosa di più concreto. In particolare, appunto, prima Alessandro citava i referendum. Lo strumento del referendum in questo periodo storico, diciamo, viene utilizzato molto più spesso, si ricorre più spesso, anche grazie alla raccolta firme online, è sicuramente più accessibile rispetto alla classica raccolta ai banchetti che si faceva fino a un po' di tempo fa. Come mai, però, la gente, insomma, ricorre più spesso a questo strumento, Alessandro, il discorso è che la politica non è in grado di accontentare e di seguire le necessità dei cittadini e soprattutto, poi, referendum, cannabis e eutanasia, un tuo parere, insomma, personale e secondo te se riuscirai in qualche modo in Italia ad arrivare a un dunque su questa questione? Beh, in primis, io, come sapete, ho sempre ritenuto il rafforzamento degli strumenti di democrazia diretta uno dei futuri diritti da garantire sempre più alla cittadinanza. Io ho fatto parte di una forza politica che riteneva, appunto, che dovesse entrare addirittura nei primi 20 punti che presentò nel 2013 nelle elezioni l'uniche dove mi sono presentato anche io appunto l'istituzione riferendo un propositivo senza quorum e l'obbligo di discussione delle leggi di iniziativa popolare in Parlamento perché come sapete oggi per portare in Parlamento una legge di iniziativa popolare servono 50.000 firme ma il che non significa che una legge appunto che riceve 50.000 firme che non sono poche poi oggi forse è più facile con determinati strumenti digitali ma un tempo era molto complicato far firmare 50.000 cittadini in una legge ecco non c'è l'obbligo di discussione all'interno delle istituzioni io ho sempre ritenuto la democrazia rappresentativa superabile in un certo senso sono convinto che il rafforzamento della democrazia diretta sia il modo migliore poi per avvicinare persone alla politica tant'è che da quando gli esiti delle elezioni che possono piacere o meno a chi evidentemente vota le volte qualcuno che vota vince le volte qualcuno che vota perde ma è il gioco della democrazia pseudo tale sono stati decisamente disattesi obiettivamente questa questa registratura è iniziata con quello che viene definito populismo poi io non ho mai ritenuto un insulto populista ma comunque dei movimenti più anti establishment che hanno preso valanghe di voti e con il partito obiettivamente più pro establishment che per me è il partito democratico che ha subito la più grande sonora sconfitta della sua vita oggi ci ritroviamo quel partito pro establishment che ha espresso addirittura il commissario europeo che aspettava l'Italia Gentiloni di fatto anche colpito e affondato durante le ultime elezioni perché il partito democratico si presentò all'elezione 2018 dopo il governo Gentiloni e con un presidente del consiglio appunto che piaccia o non piaccia l'espressione dell'establishment europeo ripeto si possono condividere o meno i provvedimenti il suo passato si può criticare loggiare ma è evidente che sia l'espressione dell'establishment europeo tutto questo disaffeziona la gente la politica la gente dice ma che voto a fare se poi mi ritrovo sempre gli stessi mi ritrovo Gentiloni commissario europeo mi ritrovo la Germini Brunetta e la Carfagna Ministro mi ritrovo un governo in cui forze politiche si sono litigate per anni oggi governano tutte quante assieme non può essere soltanto la scusa della pandemia perché io lo dico sempre la pandemia è qualcosa una tragedia a livello mondiale eppure negli Stati Uniti d'America in mezzo alla pandemia si è votato eppure è difficile trovare un altro governo al mondo sostenuto da ex fascisti ex comunisti liberali antiliperali liperisti progressisti secessionisti nazionalisti patrioti tutti quanti assieme è una roba un unicum internazionale forse ecco in questo senso per rispondere alla tua domanda Ivan io penso che il rafforzamento degli strumenti di democrazia diretta come si è visto anche con le norme successo che hanno avuto dei referendum che io ho firmato appunto sul tema cannabis io sono un sostenitore della legalizzazione appunto delle droghe leggere in quanto uno il proiezionismo non ha prodotto minimamente una diminuzione del consumo oggi è molto semplice basta uscire fuori da casa farsi un quarto d'ora a piedi dove vivo io sulla Cassia so perfettamente quale sono le piazze di spaccio dove rimediare dosi anche di droghe decisamente più pesanti dell'hashish della marijuana e poi oltretutto per me garantirebbe un gettito fiscale che come in un certo senso lo fece anche Roosevelt dopo la crisi del 29 se ci pensate ci fu un enorme problema sociale economico occupazionale e tra le prime misure che prese la finì con il proiezionismo sugli alcolici evidentemente che questo garantì quantomeno un aumento del gettito fiscale che poi servì anche per una serie di misure all'epoca che erano senz'altro rivolte appunto al rafforzamento dello Stato e anche di fatto allo Stato imprenditore che garantiva poi chiudi Ale che ha finito il tempo ergo credo che l'unico modo per riavvicinare oggi le persone alla politica sia garantirgli degli spazi realmente decisioniali cioè democratici Demos il popolo che ria una determinata potere appunto decisionale è l'unico strumento sia nel referendum che spero che vengono rafforzati maggiormente grazie a questo ci sta pensando anche il PD con le agora democratiche ragazzi ovviamente una battuta Michele di nuovo allora sulla cannabis e gli altri doghi la mia posizione è nota credo vabbano liberalitate tolte dalla criminalità e regolate a seconda della variazione vanno trattate come medicine o similmedicine o come trattiamo le sigarette nel caso delle cosiddette canne a questa un'opinione banale il resto suppongo che io commenti su quello che ho sentito dire ma l'idea che le persone gli italiani non votino o siano lontani dalla politica perché il governo c'è il PD ora notoriamente tutti sanno cosa penso del PD dista per disastro nella mia opinione non democratico quindi cosa penso del PD qui entra poco ma l'idea che sia per quello e non perché da un lato l'intera classe politica e il partito 5 stelle per primo è l'espressione di una ignoranza di una trasformazione della politica in affare in occasione per fare carriera in chiacchiera vuota priva di costrutto prima di proposte concrete io la trovo un'idea come dire che non so come discutere non si basa chiaramente sui dati la partecipazione al voto degli italiani era molto più alta quando partiti forse peggiori dell'attuale PD tipo la Forza Italia e Berlusconi governava quindi questa correlazione che praticamente la gente non vota perché il 5 stelle non governa da solo perché se governasse da solo voterebbe io la trovo un po' strana poi sugli strumenti di democrazia diretta anche qua e il superamento addirittura della democrazia apprendativa siamo al populismo puro vale che De Battista veramente mi spiegasse come pensa di governare società complesse in particolare come pensa si possa fare queste cose che in mente che adobrano una forma di socialismo c'è poco da fare adesso chiamiamo le cose con loro nome a De Battista se capisco bene io non conosco bene il suo pensiero ma se capisco quello che sento oggi piacerebbe un mondo stile Cuba ora in un mondo stile Cuba a parte che c'è un finto parlamento anche a Cuba la democrazia è stata superata ma è stata superata sulla canna del fucile il fucile della polizia e quindi certo se il meccanismo deve essere quello che va al potere in una maniera o nell'altra un partito un pugno d'audaci con o senza barba rasati o meno oppure pelati alla Putin visto che ho sentito che anche non gli piacciono le come si chiamano sanzioni nei confronti del regime russo il quale pugno di coraggiosi e rappresentanti del popolo un po' alla Dantone si mette a governare e la maniera in cui sta in relazione al cosiddetto popolo che poi il popolo non esiste esiste l'elettorato che è una questione tecnica a quelli che vanno a votare o hanno il diritto di votare ed esistono gruppi sociali eterogenei società progredite con interessi diversi con valori diversi con con obiettivi diversi bene allora se questo gruppo deve governare a botte di referendum dicendo vogliete voi che facciamo una cosa meravigliosa non volete voi che facciamo una cosa meravigliosa e il popolo ha solo la scelta per dire sì e dire no a proposte che vengono da questo pugno di coraggiosi beh io preferisco la democrazia rappresentativa e sia chiaro lo stesso vale anche le domande vengano da un'iniziativa cosiddetta popolare perché perché per esempio non ho capito come prenderemo decisioni in caso di una pandemia non ho capito che decisioni prenderemo nella gestione degli ospedali non ho capito come per esempio in un paese come l'Italia cambi questa cosa fatiscente distruttiva marridotta inutile dannosa alla gioventù chiamata a scuola a colpi di referendum ora capisci io vorrei capire che mi venisse spiegato come funziona una società vera come quella italiana superando la democrazia rappresentativa e facendo cosa tutto perché una volta era la piattaforma russo poi se capisco hanno litigato la piattaforma russo non va più bene quindi io sono semplicemente per questo se Alessandro vuole rispondere se no andiamo con la prossima domanda vuoi Alessandro vi do un minuto no io il mio pensiero l'ho espresso il dottore fa un calderone di provocazioni per cui rispondono i cittadini ascoltando avvia avanti ok Francesca vai pure con la prossima domanda sì io volevo fare una domanda sull'occupazione giovanile perché abbiamo visto che comunque resta un problema in Italia e molte persone dopo che vengono formate qui devono necessariamente trasferirsi altrove e volevo sapere se secondo voi il governo in questo momento sta prendendo delle misure per risolvere questa problematica innanzitutto e se no quali misure sarebbero necessarie per incentivare l'occupazione dei giovani per evitare questa fuga verso l'estero beh ovviamente è molto complicato perché esistono soltanto delle ricette fantasmagoriche che possano aumentare l'occupazione giovanile perché poi Francesca bisogna pure capire di che tipo di occupazione si tratta perché leggevo anche dei dati che vengono chiaramente considerati fonte di grande positività e speranza rispetto all'aumento del numero di occupati poi leggendoli bene scopri che la maggior parte sono i contratti a termine sono i contratti che fondamentalmente si ti permettono come dire di sopravvivere un po' di tempo ma è come della carità soccopazionale cioè fondamentalmente non ti permettono di vivere una vita normale per vita normale intendo dire costruire una famiglia guardate i dati appunto di natalità che sono sconvolgenti l'Italia è un paese che ha diminuito nel corso degli ultimi trent'anni il numero di abitanti e non ti permettono probabilmente di andare in una banca e accenderti un mutuo per comprarti una casa per cui fondamentalmente precarizzano del tutto la tua vita ora questo è un momento particolarmente drammatico perché è evidente che la pandemia è contrariamente a quel che ha detto proprio ieri o l'altro ieri Draghi parlando di occasione per riequilibrare gli squilibri sociali per quanto mi riguarda li ha soltanto acutizzati gli squilibri sociali già tra l'altro presenti nel mondo soprattutto nel mondo occidentale per quanto riguarda diciamo la perdita del potere salariale se pensate appunto ai dati anche relativi ai salari in Italia e anche in un certo senso ad un peggioramento sostanziale delle nostre vite mio papà è un piccolo imprenditore di città castellana che è una zona piuttosto famosa per la produzione di sanitarie e di ceramiche un tempo all'avanguardia in un certo senso che ha garantito soprattutto negli anni 50 60 e 70 un aumento del potere d'acquisto delle condizioni di vita banalmente degli stessi operai incredibile un operaio negli anni 70 di una fabbrica di sanitaria di città castellana con uno stipendio mandava avanti una famiglia faceva studiare due figli si comprava la casa alle volte addirittura risparmiando una seconda casa e mandava la famiglia in velleggiatura due settimane all'anno oggi con uno stipendio tu non ti puoi permettere quasi neanche un affitto questo è un dato di fatto e queste sono le cose e oggi la pandemia ha acutizzato io feci una proposta e concludo Ivan e Francesca circa un anno fa ne parlai con il ministro dell'ambiente tratto proposta che è stata presa dagli attuali ministri ma fondamentalmente hanno preso soltanto il nome sempre valutando quel che fece Roosevelt nei primi 100 giorni dopo la crisi del 29 io ho lanciato un'idea che il servizio civile ambientale quantomeno per tamponare una fase evidentemente di passaggio perché c'è un problema poi ci dicono ancora di più con una fase di passaggio relativa alla transizione ecologica c'è un grande problema occupazionale quindi ho lanciato un programma evidentemente di lavoro pubblico appunto da un lato per garantire un supporto occupazionale ai giovani che oggi non hanno lavoro da un altro lato per far sì che si potessero costituire dei propri gruppi di lavoro tra l'altro esistono gruppi altamente qualificati specializzati che potessero appunto intervenire sul territorio nazionale con dei micro interventi capaci di fare 10 secondi diciamo sostanzialmente una serie di piccoli interventi tra l'altro suggeriti anche dalle stesse Nazioni Unite in materia di lotta a cambiamenti climatici per far sì che da un lato aumentasse l'occupazione in questo momento banalmente iniziando da giovani l'altro lato venissero portate avanti una serie di iniziative capaci in maniera integrata anche di provare a contrastare questi fatidici cambi climatici che esistono davvero che per me nei prossimi anni produrranno anche il concetto di migrante climatico non più soltanto economico profugo di guerra che sarà un altro problema sociale per l'Europa interna grazie grazie Ale Michele poi abbiamo insomma la domanda sulle politiche estere il Quirinale e basta ma oddio di nuovo cosa vuoi che eviterò appunto di cercare di commentare quello che ho sentito da un lato perché sembra che non interessi alla persona che sta lì e quindi perché cercare di discutere con una persona che non vuole discutere guardare i fatti dall'altro perché sai se facciamo la politica economica cerchiamo di valutare come va il paese sulla base dell'anedottica personale immagino che questo paese dove è cresciuto Di Battista fosse un paradiso negli anni 50 i dati o i 60 i dati dicono l'opposto i dati dei livelli di ma va la fabbrica del capitalista Di Battista era probabilmente una fabbrica di grandissima efficienza mondiale pagava dei salari molto di sopra della media era estremamente generosa così non era per il resto dell'Italia ma in particolare per il resto delle regioni dei paesi delle città che stanno attorno a quella zona bene allora sui giovani è plateale che il problema numero uno per la gioventù italiana qual è? il problema numero uno è una scuola che a partire dalla scuola media e continuando fino alla città non li forma adeguatamente non offre un servizio di qualità non ha alcun criterio di merito di competenza non stimola e quindi quindi li abbandona chi ne esce addirittura in anticipo chi ne esce dopo il diploma chi ne esce dopo il diploma della maturità intendo chi ne esce dopo il diploma triennale chi dopo il quinquennale con delle conoscenze delle capacità di entrare sul mercato del lavoro estremamente inferiori estremamente inferiori a quelle che i ragazzi si aspettano quello è il problema numero uno qual è il problema numero due? il problema numero due come i dati dimostrano diciamo da decenni ma si vuole far finta di non vederlo si chiama carico fiscale pensionistico quello che è avvenuto in Italia è la seguente cosa a partire dalla secondo Natale agli anni 70 per mantenere il privilegio sia nell'impiego pubblico che anche nel privato al tempo di chi era già dentro e di mantenere altissime pensioni sprechi pubblici eccetera eccetera si è mantenuto un carico fiscale contributivo già alto lo si è andato aumentando sostanzialmente di circa 12 punti 13 punti di prodotto interno e si è scaricato questo costo perché è un costo su chi entrava nel mercato del lavoro leggermente negli anni 80 un po' di più negli anni 90 in maniera spaventosa negli anni 2000 in questo venteglio questo cosa vuol dire? questo vuol dire che chi è più giovane è stato costretto a lavorare in condizioni precarie e soprattutto con un incarico fiscale contributivo enorme perché deve pagare pensioni e sprechi pubblici e spesa pubblica quindi finché il carico sul lavoro nuovo di chiamiamolo così è di quel tipo lì la gente farà due cose solo o si abbandonerà a una situazione abbastanza miserevole incazzandosi e chiedendo semplicemente stipendi più alti senza comprendere che il problema sono appunto pensioni e spesa pubblica irragionevole oppure chi ne ha la capacità chi ne ha la voglia chi ha il coraggio chi si è rotto le balle in maniera definitiva prenderà la saccoccia e andrà all'estero specialmente questo lo faranno i più preparati 10 secondi 20 se leggo bene i più preparati ricevono lo stipendio adeguato non sono tassati mortalmente non vengono come dire espropriati del 35% del 35% del loro reddito lordo ogni mese per pagare le pensioni e quindi hanno una possibilità di carriera di soddisfazione soprattutto in molti paesi est non in tutti in molti paesi est ci sono meccanismi meritocratici che permettono a chi è bravo di far bene di trovare soddisfazione un paese che perde i bravi e gli ambiziosi è un paese destinato alla mediocrità e si vede grazie Michele allora andiamo andiamo avanti questione estero Alessandro io insomma so che tu sei posso dire una cugina rapida potresti avere qualcuno che controlla i numeri perché molti dei tuoi commentatori dei ragazzi che commentano purtroppo sembrano non conoscere i numeri sono un suggerimento prego prego sì sì in altre occasioni ce l'avevamo Michele oggi in questi casi è utile cosa vuoi no no è chiaro assolutamente io credo che tu quello che hai detto sia condivisibile voglio dire ma non posso mettere sui grafici in chat per mostrare che molti dicono ah in chat ok ok prego prego ma pensavo no 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 sul discorso delle politiche estere volevo chiedere insomma sapendo che Alessandro è un appassionato una parere sul patto del Quirinale per esempio e anche se sta seguendo un po' la vicenda ucraina russia se vuoi darci un tuo parere se no sul patto del Quirinale non ne ho idea francamente perché non è che abbiamo così tante informazioni e in generale credo che per contrariamente anche perché io ho sempre detto che cambiare posizione su determinate cose non è per forza disonorevole perché non si cambi posizione per ragioni di convenienza ma lo si faccia per ragioni di convinzione io banalmente ero molto più scettico anni fa rispetto al tema della Costituzione dell'Unione Europea in generale sull'Europa in sé poi viaggiando studiando scrivendo anche sul caso Assange se vuoi dire la tua Alessandro insomma qui quella è quella è penso che sia piuttosto sotto gli occhi di tutti da un lato credo che l'Occidente così tanto elogiato dagli occidentali stessi si sia macchiato di due enormi crimini se ci pensate negli ultimi anni uno la guerra tra l'altro una guerra persa cosa che era chi ha voglia di studiare sapeva perfettamente che la guerra in Afghanistan sarebbe diventata una guerra persa ecco la guerra persa più lunga dalla seconda guerra mondiale in poi costata neanche lo so al contribuente italiano circa 9 miliardi di euro a proposito di sprechi e di spesa pubblica 9 miliardi di euro è di più di quel che costa il reddito di cittadinanza un anno è di più di quello che investi in università a proposito appunto di investimenti in università in innovazione in scuola che spende appunto il governo italiano ogni anno ecco la guerra afghanista è una guerra persa fondamentalmente oggi sta il governo e ci sono i talebani tra l'altro maggiormente armati perché gli eserciti occidentali se ne sono andati lasciandovi un mucchio di armi è costata soltanto al contribuente italiano 9 miliardi di euro immaginate i contribuenti nordamericani quanto sia costato ma poi l'occidente di fatto si sta macchiando di una prigionia politica forse tra le più longeve degli ultimi 60 anni io credo che alcuni nazisti si siano fatti meno carcere di Julian Assange e Julian Assange non ha violato nessuna legge perlomeno questo lo dicono gli americani tra l'altro un paese che ha una parte di establishment americano anche brigato per rapire Julian Assange questo l'hanno scritto gli stessi giornali americani qualcuno addirittura ipotizzava di ucciderlo ecco restituire e stradare un prigioniero politico che l'unico torto che ha fatto è informare fare giornalista cioè gli sono arrivate delle notizie evidentemente scottanti rispetto alle reali ragioni che vi erano dietro delle guerre appunto di pace anzi delle missioni pace delle guerre di invasione mascherate a missioni pace e le ha giustamente date cose che non fanno più giornalisti nostrani il problema oggi della stampa ma anche della politica è l'assenza di coraggio poi ripeto ci possono essere idee condivisibili o meno ma qua non si prende più posizione su nulla in maniera netta e si tende appunto a autosidenziarsi per poter vivere soprattutto la carta stampata soprattutto i media in una comfort zone cioè fondamentalmente prendersela soltanto con quei cazzoni dei terrapiattisti cioè con le balle dei piccoli evitando di commentare o prendere posizione sulle menzogne potenti quel che esatto che contrariamente ha fatto Giulio Nassange per quanto riguarda appunto la prima domanda che facevi ha soltrattato il Quirinale non lo so francamente non lo so sulla Russia e Ucraina hai seguito un po' invece io credo io non sono mai stato un fan particolare di nessun governo straniero venne accusato anni fa quando feci un tour in motorino che tra l'altro è stato ha causato anche in un certo senso la sconfitta ha provocato la sconfitta di Renzi a quel referendum costituzionale di prendere i soldi addirittura da Putin assolutamente no io mi sono sempre sentito filo italiano nel filo russo nel filo americano credo che far arrivare la Nato ai confini della Russia sia di fatto una provocazione quindi tenderei a cercare il più possibile attraverso attività diplomatiche di buttare appunto acqua sul fuoco a conflitti internazionali perché sebbene non abbiamo a che fare con la guerra in Europa da tanto tempo posto che i bombardamenti su Belgrado o la guerra in Bosnia sono state attività militari comunque guerre a pochi centinaia di chilometri addirittura alle nostre coste ma la guerra nel mondo c'è ci sono tensioni in Medio Oriente sconvolgenti c'è una povertà disarmante recentemente sono stata a visitare i campi profughi palestinesi in Libano condizioni drammate ecco credo che come diceva il Papa che esiste una terza guerra mondiale a pezzetti credo che le attività diplomatiche dovrebbero lavorare affinché si possa buttare acqua sul fuoco portare l'altro confine della Russia non mi sembra il modo migliore di buttare acqua sul fuoco ok grazie Michele vuoi dare un tuo parere su questa questione insomma stiamo un po' ma nei cinque minuti che ho cosa vuoi che dica cioè qui siamo al comizio socialisteggiante l'Occidente è terribile e Cuba e Putin sono due eroi allora quando senti affermazioni del tipo la guerra non bisognava farla ho sentito solo parole negative sull'Occidente non ho sentito una parola di condanna per i crimini dei regimi che ti piacciono Cuba Custa lascia stare allora quando mi sento dire che la guerra in Afghanistan è stata una follea mi domando quale sarebbe l'alternativa perché si può entrare nel dibattito concreto di come è stata gestita di quanto è durata di quello che si è voluto fare di quanti soldi ci si è messo di com'è Biden follemente follemente ha deciso di uscirne con danni strategici enormi ma dire che la guerra di per sé sia stata un errore vuol dire che evidentemente si preferiva l'alternativa l'alternativa avere un paese nel centro dell'Asia governato da un gruppo terrorista un gruppo terrorista efficace un gruppo terrorista molto capace un gruppo terrorista molto abile evidentemente questa è la visione di politica estera che ci viene proposta sento dire che allargare la Nato ai confini con la Russia è una provocazione una provocazione nei confronti di chi della Russia un regime dittatoriale che va a fare guerre e attacchi ogni volta che vuole un regime dittatoriale che tiene in piedi quello siriano da sempre dove starebbe la provocazione in nome dell'evitare che questa provocazione avvenga dovremmo accettare che due paesi come la Bielorussia e l'Ucraina non abbiano la libertà di decidere l'uno la Bielorussia si mantenga sotto un dittatore chiaramente violento di cui non ho sentito dire nulla di male è ferato al servizio di Putin e l'altro debba subire al continuo le provocazioni armate dei gruppi organizzati da Putin e dai russi perché perché altrimenti Putin il dittatore russo si offende se questa è la concezione di politica estera con la quale noi difendiamo gli interessi italiani e della democrazia io come dire rimango sì forse non ho niente da dire su questo ovviamente il problema ucraino è delicato ovviamente vuoi evitare una guerra ovviamente vuoi anche guardare il diritto dell'Ucraina di rimanere un paese se mi libero purtroppo perché la minaccia russa è effettiva costante e pesante e vuoi cercare di far sì che aumenti il loro grado di libertà e indipendenza la loro capacità di decidere da che parte stare e se hanno voglia di stare altrove e se hanno voglia il militare mi salutavo con i soldati jugoslavi con la stella rossa di un regime socialista e un pelo più in laccia del patto di Varsavia l'Austria e la Germania non al confine diretto con il patto di Varsavia quindi voglio dire se vogliamo ragionare seriamente di politica estera ragioniamo seriamente di politica estera e ragionare di politica estera vuol dire stare sui fatti conoscerli e cercare di capire quali siano le dinamiche e riconoscere soprattutto dal punto di vista strategico quali sono i tuoi interessi e qui va detto alla fine occorre riconoscere quali sono i propri interessi se i nostri interessi sono mantenere Bin Laden nel potere in Afghanistan a tranquillizzare Putin e volergli bene rafforzare il suo regime eccetera eccetera allora diciamolo perché questo è che va detto bisogna partire da quello bisogna decidere quali sono i tuoi interessi strategici di parte poi questo questo il commento generale sul Quirinale anche io non ho opinioni mi auguro francamente che Draghi non ci vada vedo ovviamente un grandissimo desiderio da parte di molti che ci vada da questo punto di vista se posso mettere una nota di colore trovo divertente quasi affascinante la condizione di buona parte del gruppo parlamentare 5 Stelle perché ma perché hanno vinto la lotteria del populismo portano a casa un salario che non si meritano e non sanno che cazzo fare si vede da quello che hanno fatto in questi tre anni e mezzo quattro quanti ne sono passati dalle elezioni non vorrebbero avere Draghi il presidente del consiglio anche perché se lo rimane c'è il rischio che dopo la confitta che subiranno nel 23 Mario dica ma magari continuo vediamo forse c'è una maggioranza diversa riusciamo a fare qualcosa di meglio del pochissimo che ha fatto fino adesso e quindi non lo vorrebbero però d'altra parte se va al colle si arriva alle elezioni anticipate perché non c'è a meno che qualcuno lo tiri fuori alla manica una magica soluzione di qualcuno o qualcuna che possa diventare presidente del consiglio in questo parlamento avere una maggioranza che governa e quindi perdono un anno in stipendio e quindi niente la trovo affascinante infatti mi rendo conto dai dibattiti di scontri interni piuttosto sotterranei ma esistenti che questo sia un grande problema esistenziale per molti di questi vincitori alla lotteria niente ammiriamo lo spettacolo godiamocelo e vedremo cosa succederà tanto è abbastanza al di fuori dal nostro potere di controllo chiaro tu Alessandro sul Quirinale ti sei fatto un'idea e soprattutto poi avevo insomma una curiosità da porti ovvero la posizione di Giuseppe Conte che insomma in alcune dichiarazioni mi è sembrato un po' troppo alla Enrico Letta come si suol dire democristiano anche su tornando sul discorso del referendum cannabis lui rispose da porro che era a favore per uso terapeutico e in generale sembra sempre non voler rispondere a molte domande che gli vengono fatte quando lo invitano e poi appunto il tuo parere sul Quirinale se ci andrà Draghi oppure se spunterà una nuova figura beh io quando sapete io sono andato sotto a casa di Berlusconi a leggere la sentenza dell'Utri poi quando l'ho sentito pronunciare parole non dico al miele però che io non avrei mai pronunciato appunto rispetto a Berlusconi che ha fatto cose positive compagnie cantante evidente non sono stato minimamente d'accordo con lui poi lui è lui io sono io sul Quirinale è vero che il Movimento 5 Stelle è in difficoltà ma in generale è in difficoltà al centro-sinistra perché teme di non poter toccare palla io francamente tra non toccare palla e sporcarmi le mani dicendo di volere leggere personaggi per me improbabili nomi che circolano per me sono improbabili preferirei in un certo senso non toccare palla dato che comunque per me nella vita bisogna anche prendere decisioni etiche non bisogna soltanto ragionare strategia posto che non sempre strategie poi riescono ad ottenere determinati risultati è verissimo che a Draghi gli hanno promesso il Quirinale quando gli chiesero sostanzialmente di diventare Presidente del Consiglio ne ho contezza cioè ho fonti che me lo dissero addirittura nel 2020 questo sarebbe divertente posso dire si potrebbe rendere pubblico questo fatto io l'ho resi già pubblico perché l'ho scritto nel mio libro chi gli era promesso se uno ha delle fonti che ti aiutano a scrivere un libro le fonti devono essere sempre protette altrimenti poi non ti danno più determinati in grado di provare che la maggioranza dei grandi elettori è disposta a votare Draghi questo non lo può provare nessuno in passato spesso e volentieri dei papabili al Quirinale che sono entrati quasi sicuri di essere eletti pensate ad Andreotti nel periodo stragista oppure pensate allo stesso Prodi nel 2013 poi sono stati trombati per cui fondamentalmente questo non lo può garantire nessuno e secondo me lo può garantire ancora meno un Parlamento evidentemente condizionato senz'altro sia dalla scadenza elettorale che dal taglio dei parlamentari che dall'impoverimento elettorale di varie forze politiche a cominciare dal Movimento 5 Stelle che molto difficilmente prenderà alle prossime elezioni la stessa percentuale di voti che ha preso il 2018 per cui è evidente che nessuno possa garantire oggi a Draghi le elezioni posto che Draghi ci lavorerà per me già ci sta lavorando fondamentalmente promettendo in un certo senso continuità magari lanciando il Ministro dell'Economia Franco come futuro Presidente del Consiglio dei Ministri provando a dire tranquilli la legislatura andrà avanti magari si inserisce anche in questo il tema dello stato d'emergenza perché purtroppo io nel palazzo ci sono stati e poi gli interessi spesso e volentieri prevalgono appunto sulla politica e sulle nobili idee politiche se poi io dovessi scommettere oggi su un presidente credo che probabilmente sarà di centrodestra ma non sarà Draghi non sarà Berlusconi temo perché poi non ho stima per i due personaggi che possa essere o Marcello Pera sul quale sta lavorando pensate dagli arresti domiciliari addirittura Verdini o Pierferdinando Casini che è l'uomo di tutte le stagioni molto ben collegato con Washington il democristiano per eccellenza con il Vaticano democristiano storicamente di centrodestra eletto alle ultime elezioni tra le file al centrosinistra del Partito Democratico per volontà di Renzi quindi se ci pensate è un uomo che potrebbe mettere d'accordo vari mondi potrebbe in maniera democristiana qual è garantire in qualche modo la continuità legislativa fino a una scadenza che interessa come diceva prima Boldrin la maggior parte dei parlamentari non solo i parlamentari del Movimento 5 Stelle ma tutti quanti perché il combinato disposto che vi è tra crisi politiche perdite dei consensi di determinate forze politiche e taglie dei parlamentari incute timore a determinati rappresentanti del popolo ok Michele ti do un minuto perché avevi anticipato prima la risposta sul Quirinale se vuoi aggiungere un'ultima cosa un minuto mi dai mi togli i tempi va bene due dai cosa devo fare sul Quirinale ti ho detto adesso non lo so le ultime osservazioni che abbiamo sentito a me sembrano un po' da gossip va benissimo ha detto un amico c'è lo scritto nel libro che ti dica se la politica si fa così io lo lascio anche stare ripeto la questione del Quirinale in Italia è grandemente esagerata tra l'altro c'è un'illusione dovuta al protagonismo e al fatto che il sistema mediatico questo sì non tanto organizzato ma che ha un interesse principio e chiarissimo di vendita di costruzione di miti da anni da molti anni da prima di di Mattarella anche da prima di Napolitano vende il Presidente della Repubblica come un soggetto di grande potere questa in realtà fu una strategia prima craxiana poi berlusconiana entrambi aspiravano a ottenere riforme costituzionali che spingessero il paese in direzione di forme di presidenzialismo a metà fra quello francese e quello americano e come parte di questa strategia una strategia anche di convinzione dell'elettorato che così era opportuno fare che sarebbe stato utile tu hai visto dalla seconda metà degli anni 90 una crescita di pubblicistica proprio di narrativa per cui il Presidente della Repubblica è uno molto potente il Presidente della Repubblica ha una potenza di fuoco molto relativa e molto ben determinati in alcuni momenti svolte cruciali di una legislatura che stanno uno nella scelta del Presidente del Consiglio del candidato del Presidente del Consiglio comunque vincolata dall'opinione dei partiti perché non può uscirsene e le consultazioni a quelle servono oppure di pressione più o meno esplicita in situazioni di grave crisi come avvenne con Napolitano quando il governo Berlusconi-Tremonti stava letteralmente portando il paese a una situazione pre-greca sto parlando del 2011 tolto quello il Quirinale è un oggetto tipico della Roma della politica costosissimo costa notoriamente ben più di Buckingham Palace con potere di spesa enorme ma nella forma del sovrano il Quirinale ha mille agenzie direttori voci di spesa giganteschi personale si interessa un po' di tutto in realtà fa come dire uno può leggerlo se lo legge da un lato dal lato di chi ritiene che sia giusto che esista una specie di monarca fa cose buone fa carità perché mette soldi qua mette soldi là patrocinia non patrocinia eccetera eccetera se lo legge dal punto di vista non fa clientelismo perché fa spesa pubblica a pioggia verso quei gruppi quei centri eccetera eccetera che hanno qualche maniera di arrivare a un funzionario del Quirinale che mette in bilancio i 5 milioni 12 milioni 34 milioni alla presenza del Presidente di Turco quindi bisognerebbe anche capire che il Quirinale sia una certa rilevanza ma non è ciò che decide della politica italiana con Mattarella Presidente ci siamo beccati Conte primo ministro per tre anni Salvini ministro dell'interno addirittura Di Maio ministro degli esteri tre personaggi in quei ruoli che chiaramente a uno come Mattarella e non l'ha neanche nascosto tanto non gli vanno bene però se li è tenuti perché perché non ha assolutamente alcun potere di cambiarli l'unica cosa che è riuscito a fare opponendosi a Savona è far mettere Tria che è stato per anni praticamente il contabile di Savona quello che gestiva il dipartimento e amico di tutta la vita a ministro dell'economia dando a Savona un altro posto per far danno quindi il dibattito sul Quirinale mi sembra sì un po' una roba da bar tipico di una Italia che pensa che la politica siano chiacchiere il problema è vero il problema è vero e finisco è che non esiste un partito del futuro dell'Italia non esiste un partito che rappresenti l'Italia che lavora per davvero che sa fare le cose non esiste perché è un'Italia minoritaria travolta dalla chiacchiera dalla sbrufonaggine dal saper stare in televisione dalle battute eccetera eccetera quindi da questo populismo dominante Alessandro a proposito di questo ci vogliamo ci vogliamo lasciare con un'anticipazione magari sul tuo futuro se non so visto che si parla appunto di partiti che non ci sono che rappresentino come diceva il professor Boldrin queste categorie tu hai intenzione di di tornare attivamente in politica ci stai pensando ma io ho sempre pensato Ivan che si possa fare politica di fuori delle istituzioni penso di averlo dimostrato avendo rispettato quel che ho sempre detto a cominciare al 2014 appunto rispetto al mio futuro io non credo che la politica sia una professione penso che le professioni siano altre credo che la politica sia un servizio civico da attuare un tempo limitato della propria vita per mettersi appunto a disposizione della collettività e tentare di risolvere determinati problemi a cominciare evidentemente da problemi etici che secondo me attanagliano questo paese e per tornare poi al lavoro di prima l'ho fatto e mi sono comportato così e quando mi sono arrivate delle proposte significative le ho rifiutate in virtù del fatto che non condividessi appunto le linee politiche portate avanti dal movimento che mi ha proposto in quel momento determinati ruoli anche molto importanti rispetto al mio futuro vedremo io sono molto contento di come mi sto comportando di come mi sono comportato delle battaglie che sto facendo che evidentemente ripeto condivisibili o meno sono battaglie nelle quali credo e credo anche che i cittadini che le ascoltano che le possono condividere o meno sono capaci di non scimmiotarle soprattutto di non screditarle tentando appunto di non comprenderne le parole o tentando appunto di strumentalizzare determinate frasi questo è un giochetto che fanno molto in televisione la tanto vituperata televisione da parte degli esperti e delle persone dagli intellettuali senza voti che pensano appunto di poter interpretare il paese dall'alto della loro arroganza piuttosto palese e credo di continuare così poi vediamo tra un anno quel che succederà se vi sarà o meno del consenso su determinate battaglie Ivan valutorò che cosa fare insieme ad altre persone tale consenso anche perché credo che qualunque forza politica possa o non possa nascere avrebbe successo soltanto se rafforzata dal consenso su determinate battaglie io credo che il tempo di formazione politica è nata dal notaglio sia finito da un pezzo perché non avrebbero nessun tipo di supporto popolare va benissimo io ringrazio entrambi insomma per la chiacchierata insomma ci auguriamo che le cose procedano per il meglio diamo in bocca al lupo ad Alessandro l'interprete del popolo che è andato al potere grazie a un'agenzia pubblicitaria si è trovato un lavoro uno stipendio a giro al mondo saprà interpretare degnamente il volere del famoso popolo siamo a livelli cubani davvero lo dico con una grande tristezza io sentire un personaggio non ho mai sentito parlare di questo signore dire queste cose con questa arroganza con questo tono da Danton dopo aver fallito completamente fallito siamo alla fine rimaniamo calmi siamo riusciti a non alzare i toni della realtà che non intende interpretare il volere di nessuno guardo e osservo osservo un fallito della politica che si è trovato uno stipendio grazie a Grillo e a un'agenzia pubblicitaria genovese sentenziare sui destini del mondo e spiegarci che bisogna andare a vivere a culo vabbè buon viaggio grazie Michele dato che ha insultato evidentemente non riuscendo eravamo riusciti a rimanere calmi eravamo riusciti fai parlare fai parlare dato che il signore ha insultato evidentemente non riuscendo a contenere il suo livore gli posso soltanto dire che perdono i suoi insulti e che a provare livore si sta male sta male soprattutto chi lo prova grazie molto bene grazie Alessandro per il tuo tempo buon lavoro bocca a lui ciao Alessandro grazie grazie a tutti